Il complimento più bello è stato sempre quello che mi ha commosso, ma nel vero senso della parola che ancora oggi, ogni tanto ancora sento, la cosa mi fa molto piacere e complimenti per la sua generosità che non si risparmia mai e questa è una cosa che mi piace molto perché il pubblico avverte che quando sto lì mi diverto perché loro si divertono, è un massacro però, è un gioco al massacro perché loro più si divertono, più mi diverto e più non ho voglia di andare via e loro hanno voglia di non andare via